L'avversario non si vede, si nega al confronto. Un uomo solo su un campo da tennis, un qualunque numero due rappresentato da Emilio Solfrizzi, che disputa un'immaginaria e tragicomica partita contro il re del tennis, l'inarrivabile numero uno, un fuoriclasse di nome Roger. Lo spettacolo messo in scena ieri sera nell'ambito della rassegna Capodorlando Theater è un monologo in cui al centro ci sono le parole, in una scena che non c'è, ma che grazie al racconto del bravissimo Emilio Solfrizzi si riesce ad immaginare. Roger Federer somiglia ad una divinità e l'attore scende in campo allo sbaraglio, sapendo che perderà, ma pronto a sfidarlo. Solfrizzi è lì da solo, con le sue paure, ad attendere quel Dio che non verrà, che non lo degnerà neppure del confronto. Questo testo non solo è un atto d'amore nei confronti del tennis, ma è metafora della vita, come giustamente hai detto tu. Io sul palcoscenico sono numero due, addirittura sono un tennista ormai avanti negli anni, quindi non potrei mai competere con Federer. Aspetta di giocare la sua partita, non ha neanche un nome, lui si chiama numero due, pensa. L'intenzione era quella, in qualche modo, di non dargli un'individualità, perché i numeri due siamo tutti quanti noi, sono tutti quelli che non saranno mai un numero uno nella vita. Lo sport è proprio paradigma della vita, per raggiungere gli obiettivi bisogna cimentarsi con se stessi, superarsi, intanto impariamo a volerci bene, perché solamente accettando i nostri difetti in qualche modo si potrà superarli. Ma il fatto di essere finiti, questo non vuol dire che uno debba rassegnarsi a non fare meglio di quanto già non sappia fare. Emilio Solfrizi si cimenta in un lavoro che ha avuto già grande successo l'anno scorso con la sua tournée e che sta ripetendo quest'anno nei vari teatri. Mi giungono notizie veramente di grande successo di pubblico, poi lui sul palco non si risparmia, qualcosa di eccezionale. Buona parola che ti faccio salutare il contatore italiano. Buona parola che ti faccio salutare, questa è la borsa.